Il mio nome è John McKenzie. Distimone di Jehovah? Sei attrice? Sì. Sei famosa? Beh, sì. Chi è per la sostituzione dell'ascensore? Contrario? La solidarietà le dice qualcosa? Sentiamo, quali film hai fatto? Non ne conosci nessuno. Non sei famosa. È un bel lavoro il suo? Lavoro di notte, piuttosto calmo. Solo persone che dormono. Ti vengono a prendere? No! Stasera a mangiare couscous? A casa nostra c'è astronauta. Ma di dove vieni? Dallo spazio. Hai l'Alzheimer? Sono un fotografo. Ha fatto il giro del mondo. Tre quarti. Io ho già visto questo. Come? Nancy, lei è suicidare. Non la guardo più, questa serie. È un film che ho girato nel 1982. Potrei farle qualche foto? Perché? Perché è bella. E come è lo spazio? È come vedere una persona diversa da un'altra vita. Mi fa un sorriso. Non ci riesco, mi dispiace. Eh, no, aspetta. A posto. Aspetta. Va bene, parti.